buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti il bello della diretta quindi chi ci sta guardando su youtube e mi vedrà ridere vedrà un po di insulti in chat è perché abbiamo avuto un attimino di bisbigli con l'audio di batti vecchi ecco vabbè niente superato questo dicevo noi proviamo a cercare anche stavolta il pump in diretta qualcuno dice pensavo avessi perso la voce a causa del pump di luna no in realtà no anzi sì ho urlato però non ho ancora perso la voce comunque noi proviamo a incrociare le dita a portare bene dicendo pump in diretta anche se di solito non funziona ma a parte gli scherzi bitcoin sembra aver ritrovato un attimino di forze introduciamo un attimino in breve quello che sta succedendo sul mercato guardate abbiamo questo possibile bottom puntiforme mi piacerebbe molto che lo fosse abbiamo questa zona di supportino intermedio più o meno dove si è formata domanda guardate tac tac poi la punta poi di nuovo tac e quindi ripeto questo sembra un possibile costrutto di bottom che però di nuovo sarebbe da confermare per fare le cose per bene qui sopra per il momento si potrebbe cercare l'altro setup un pelo più aggressivo quindi un po più come dire orientato sul breve su questa zona di supporto che abbiamo visto che verrebbe invalidata dalla perdita dei 53 mila queste sono un po le due strutture al momento da evidenziare non male nel complesso e alla fine del video della live come al solito andremo a vedere per bene quelli che sono i livelli proprio puntualmente nonché i possibili setup adesso però non voglio perdere troppo tempo perché ho un sacco di cose da dire come vedete dalle tabs in alto vorrei farvi la droppata dei dei codici promo di prime xvd che ho gli ultimi altrimenti non li finiamo mai più e poi vorrei ascoltare un po di vostre domande belle gasate belle cariche come si deve allora cominciamo subito visto che stavolta ne ho quattro avevo un totale di dieci codici avevamo fatto tre più tre ne mancano altri quattro e quindi cominciamo subito col primo come funzionano sono dei codici da inserire sull'exchange di cfd speculativo prime xvd non so se lo conoscete è un exchange ottimo secondo me per i trade di brevissimo per i trade di più lungo termine meno perché ci sono le fee overnight sapete sui cfd funziona così ma per i trade super speculativi è ottimo perché non c'è il funding quindi è come avere i perpetual senza il funding e la fia dello 0,04 per cento mi pare la trading fee comunque e si può tradare sulle cripto ma non solo perché ci sono anche le coppie come potete vedere da adesso qua avevo un mio vecchio setup comunque ci sono anche delle coppie con forex materie prime stocks gli indici eccetera 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 comunque per andare a inserire i promo code così lo sapete tutti e partite tutti dallo stesso livello dovete andare nel menu del trading quindi sotto margin scegliere un qualsiasi account direi btc andare su account e vedete qua c'è promo code lo dovete incollare qua nel momento in cui lo incollare scrivere qua perché non vi lascio copie incollare così i bot se ne stanno buoni va inserito qui e poi fare attiva vi trovate il trading bonus accreditato non prelevabile chiaramente ma con cui potete aprire posizioni anche se avete zero sull'account e coi profitti eventuali potete poi prelevarli quindi quelli si sono tutti vostri quindi iniziamo subito con il primo codice se vi volete iscrivere visto che magari qualcuno di voi non è ancora iscritto non c'è che i yc ne niente è proprio super easy da utilizzare e vi lascio aspettate che ve lo cerco vi lascio il mio referral link così già che ci siamo siamo tutti belli contenti eccolo qua tac ci vuole meno di un minuto iscriversi veramente rapido iniziamo subito a droppare il primo codice pam pam vediamo di farlo bello grosso facciamo un bel copia e incolla dove siamo qua eccolo siete pronti via che partiamo tac primo codice nel frattempo guardiamo un attimino meglio il nostro grafico di bitcoin visto che vi lascio un po di tempo per copiare il codice per scriverlo a mano abbiamo detto che se superiamo questo livello avremo un bel costrutto di bottom una sorta di w teste spalle una testa con tante spalle una cosa del genere fatto sta che sarebbe molto bello perché sul macro vedete abbiamo già una situazione bullish abbiamo massimi e minimi crescenti addirittura non voglio far sparire il codice non non mi picchiate per questo abbiamo una situazione che potrebbe essere come qualcuno suggeriva l'ultima volta inquadrata in un canale crescente di questo tipo comunque non abbiamo niente di bearish ecco se questo era il vostro dubbio tuttavia sul breve vedete abbiamo iniziato a incrinare un attimino la struttura con questa situazione che si è opposta al macro bullish quindi lower highs lower lows tuttavia sembra una bull flag viene definita così di solito quindi un ritracciamento in un macro bullish che di solito è una buona occasione per andare a costruire posizioni non tanto per shortare perché di fatto non è ripeto il macro bullish l'importante è quello e le posizioni dovrebbero seguire quella che è la tendenza di lungo termine spero che abbiate inserito il vostro codiciozzo papapam bene ok io lo do per scontato e iniziamo subito con le notizie di oggi allora la prima riguarda proprio prime xbt già che già che ci siamo ve la butto lì hanno lanciato per chi vuole fare pratica di trading o per chi si sente un pro c'è il nuovo modulo su prime xbt che si chiama contests dove vedete ci sono delle gare che vengono fatte settimanalmente mensilmente periodicamente con appunto periodicità differenti con dei premi che sono sotto forma di trading bonus anche questi quindi non prelevabili però la figata è che la partecipazione è gratuita nel senso si può anche avere un account con zero deposito i fondi sono virtuali e vengono dati da prime xbt quindi in sostanza si partecipa si prova a tradare e se si vince si vince un premio quindi colto zero e c'è la possibilità di vincere un premio carina come iniziativa e per unirsi è super super facile perché è sufficiente andare a scegliere quella che io ad esempio ho aggiornato questa prima per prova andarla a scegliere vedete ognuna ha un numero di partecipanti deciso in base a quanti ne arrivano non c'è un massimo ci sono dei premi differenti vedete l'inizio e la fine e ci sono delle caratteristiche come un numero minimo di trade da fare e un turnover minimo da ottenere quindi volume movimentato però vi ricordo che non sono fondi reali ok quindi sono fondi virtuali a costo zero e quindi insomma si può anche andare degen a manetta e provare a vincere quello che è il premio finale qua sotto poi c'è la classifica e niente ed è un contest un trading contest che dura la durata specificata e per joinarlo si clicca join si sceglie un nome un nickname non lo so bananaro posso scegliere confermo join e via siamo sul pezzissimo una volta che l'abbiamo joinato vedete grand competition posso fare start e siamo subito sul pezzissimo per iniziare a fare i nostri trade con l'account contest ok quindi vedete che vengo poi catapultato nella solita schermata di trading e posso fare tutto da qua con il mio account con 30 mila usdt vai sono mai stato così ricco in vita mia e niente ve lo volevo soltanto condividere perché mi sembra una cosa simpatica per chi vuole provare il trading e magari sarà non lo so potrebbe essere divertente anche condividere vediamo vediamo per ora ve la butto lì poi popsicle finance allora adesso iniziamo a parlare di defi perché se poi non parliamo di defi non noi siamo tristi le faq vabbè ve le andate a leggere se vi interessano tanto vi ho già detto praticamente tutto non c'è nient'altro da sapere popsicle finance è stato lanciato recentemente su su ethereum è un ottimizzatore di uniswap v3 uniswap v3 non so se lo sapete la differenza con la v2 è che i pool di liquidità non sono più a liquidità distribuita su tutta la curva quindi da zero a più infinito di prezzo ma sono concentrati quando voi andate a dare liquidità su uniswap v3 vi fa scegliere un range di prezzo se il prezzo si muove all'interno di quel range voi date liquidità in percentuale insomma come è solito se esce dal range da una parte o dall'altra chiaramente voi non siete più coperti e quindi sarete esposti tutto da una parte o tutto dall'altra e smetterete di guadagnare commissioni con popsicle invece vi ottimizza cioè vi sposta di volta in volta la liquidità per ottimizzare l'apr e i risultati sono eccellenti perché come vedete abbiamo dei pool un attimino più di gen come quello axi e th che però ragazzi 5400 per cento di apr al momento è infuocato questo pool ma perché ci sono volumi molto alti ragazzi che dire dove ci sono volumi alti e si gioca bene con la liquidità si gode poi abbiamo con ens vth anche qua un apr molto alto send vth di nuovo un apr molto alto e per chi è un attimino più tranquillo vuole stare un po più tranquillo ci sono anche dei pool di stable coin tipo usdc usd con un buon 78 per cento di apr e tra l'altro guardate 13 milioni di liquidità già depositata non male per distribuire un apr del genere ci sono anche altri pool di liquidità tra stable come usd usdt al 40 poi che cosa abbiamo di stable ce n'era uno con mim dov'è eccolo qua mim usdc mim usdt al 30 per cento che non fanno schifo è vero sono su ethereum però insomma stiamo parlando di apr di di tutto rispetto per chi insomma si può permettere di pagare le gas fee perché parliamo sempre ripeto di ethereum è sicuramente un'opportunità assolutamente valide quindi mi è sembrato giusto condividervelo vi starete chiedendo ma quando è che migra sui layer 2 eccetera eccetera guardate non lo so per il momento ci sono anche altri network però in verità non non c'è nulla se voi se andiamo ad esempio su avalash così giusto per per provare adesso compare ok vediamo no non c'è ancora nulla ecco e quindi anche perché è su di swap v3 non so se adesso migrerà avevo letto una proposal per farlo migrare su polygon se non ricordo male se migrasse su polygon assieme anche popsicle tanta roba sarebbe veramente tanta roba niente ve lo volevo soltanto condividere andiamo avanti andiamo avanti perché abbiamo 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 ecco il lancio di un etf spot bitcoin in canada da parte di fidelity che ci ha provato anche in america in america sono ancora un attimino reticenti ma in canada sono molto più avanti e non è il primo infatti c'era già quello che si chiama purpose se non ricordo male erogato da purpose e adesso c'è anche fidelity quindi insomma cresce il numero di etf chissà quando li approveranno anche in america non lo so lo vedremo poi crypto.com acquisisce due exchange uno dei quali si chiama the small exchange non so chi ha deciso sto nome vabbè sono exchange autorizzati quindi regolamentati di trading di derivati sulle crypto in america e quindi l'obiettivo è proprio quello offrire visto che i competitor già si stanno muovendo in questa direzione ftx è già da tempo che ha acquisito un exchange di derivati ledger x e anche altri big insomma della categoria exchange si stanno muovendo in questa direzione quindi crypto.com ha sentito la pressione probabilmente ma scherzi a parte è insomma un settore importante quello dei derivati e quindi vuole offrire i derivati in maniera regolamentata agli utenti statunitensi e ha acquisito per questa ragione i due exchange in questione rimanendo nel mondo crypto.com in realtà kronos abbiamo un evento importante ovvero la whitelist del lancio della versione alfa di tectonic che è una delle piattaforme più attese su su kronos per l'appunto perché è un lending protocol un money market quindi una ave per capirci ma su kronos come funziona questa fase beh la fase alfa in sostanza è una fase molto early nella quale si testa la piattaforma con dei grossi limiti di solito vengono imposti degli hard cap sui depositi sui borrow su tutte le funzionalità ed è finalizzata ripeto al testing poi si passa alla beta di solito e poi si va live questi sono gli step per partecipare alla alfa c'è un whitelisting limitato a 500 utenti questi 500 utenti riceveranno anche un piccolo airdrop di token tectonic che secondo me schifo non fa potrebbe non fare schifo ecco il periodo di whitelisting termina il 6 di dicembre e per essere whitelistato occorre partecipare a questo giochino insomma dove bisogna fare dei semplici task social penso che ci sarà una competizione notevole però tentar non nuoce chi lo sa e quindi niente ci saranno delle reward durante l'alpha vedete che si potrà fare da beta tester in sostanza e quindi ottenere delle reward nel token tonic e ci sono anche due scimmie chronoschimp due nft che verranno regalati sempre ai partecipanti della fase alfa quindi ripeto è abbastanza semplice partecipare non c'è da fare niente di folle sono dei semplici social task quindi proviamoci chi lo sa che non ci vada di fortuna giriamo pagina e andiamo nel mondo terra white whale è un protocollo che lancerà il suo token nelle prossime settimane aspettate che faccio un check dell'audio ok sta funzionando penso di sì dicevo white whale è un protocollo finalizzato a mantenere il peg di usp che è la stable coin di terra ok sapete come funziona col signoraggio e tutto quanto white whale in sostanza gioca sugli arbitragi quando scende o sale sotto sopra il peg andando a entrare in basso e uscire in alto in sostanza per mantenerlo e sarà una piattaforma che automatizza questo processo quindi da un lato aiuterà ust a mantenere il peg benvenga e dall'altro si potrà partecipare come arbitrageur si dice ovvero depositando liquidità nella piattaforma la piattaforma andrà a fare questo gioco di arbitraggio per noi ci sarà il suo token il token che si chiama whale direi eccolo e c'è questa fase di lancio ve la faccio semplice poi se volete i dettagli c'è questo articolo su medium che spiega bene come come esattamente viene fatto l'hanno chiamato boot swap in sostanza è un metodo per disincentivare i bot che altrimenti arrivano loro e rubano i token a tutti in questo modo facendo partire da un prezzo alto e poi facendolo scendere un po alla volta nella durata dell'asta loro cercano di disincentivare i bot e soprattutto non fanno una vendita diretta ma passano attraverso un pool di liquidità insomma è un po un casino ma poi vi spiegherò bene quando ci sarà perché non è ancora stata annunciata la data e la modalità definitiva vedete sono in fase di test ma state sul pezzo perché secondo me sarà interessante e ripeto nel momento in cui ci saranno date definitive e modalità definitive ve lo spiegherò step by step in maniera un po più precisa perché adesso ripeto non è che ci siano tutte queste info rimaniamo nel mondo terra e vi mostro luna x luna x è il primo mi pare proprio il primo protocollo di liquid staking di luna se ovviamente andiamo a escludere st luna che poi diventa biluna quello di lido tuttavia luna x extreme liquidity probabilmente hanno voluto spingere un sacco su questa cosa no scherzi a parte che cosa serve serve per avere liquidità nel momento in cui si fa anche staking di luna quindi metto luna in staking ottengo le ricompense e gli airdrop ma nel contempo mi detengo la liquidità utilizzabile sulle piattaforme defi e questo luna x poi avrà la possibilità di essere utilizzato dove l'avevo visto già da qualche parte in alcuni pool di liquidità vedete luna luna x luna x sd sono i pool interni perché di stader labs non ve l'ho ancora detto fa parte di della piattaforma stader labs che è una piattaforma al momento di solo staking se andate su stader labs eccola vedete che se vi ricordate c'è anche il community farming ne avevamo parlato a tempo debito è una piattaforma per semplificare lo staking in sostanza tu vai con i tuoi luna vediamo che mi è impazzito ancora il browser probabilmente ci sono vari pool in cui si possono mettere in staking i nostri luna eccoci e si può scegliere vedete in base a ne avevamo parlato l'ultima volta ti scegli i validatori a cui delegare con alcune specifiche caratteristiche uno ad esempio quello che ti busta gli airdrop l'altro con un uptime più alto con dei criteri più stretti sulla valutazione del validatore e l'apr alla fine è simile perché gira e rigira l'apr è sempre quello ma nel contempo quando ci sarà luna x andando a depositare i nostri luna dentro a questi pool otterremo luna x quindi potremo utilizzarlo di nuovo come liquidità otterremo l'apr otterremo gli airdrop e avremo i nostri luna x da utilizzare niente male adesso se vi interessa c'è ancora attivo il community farming non so a che punto è e non so neanche se lo diceva qui da qualche parte dove anziché se voi adesso depositate nei pool di staking anziché eccolo qua sì 405 siamo più o meno a un sesto sì un sesto quindi un meno del 20 per cento di di token già farmati sostanzialmente se voi andate a depositare nei pool adesso i vostri luna non ottenete le ricompensi in luna come farebbe di solito ma le ottenete in sd che è il token di stader labs bene ultima cosa poi passo la parola a voi direi starknet allora starknet è un nuovo layer 2 su ethereum un altro direte cosa ce ne facciamo allora in realtà ha una particolarità è il primo con gli zk roll ups quindi è un po come arbitrum cioè nativo ethereum condivide la sicurezza di terreno è un vero layer 2 non come polygon che in realtà è più side chain che layer 2 ma non ha lo svantaggio di arbitrum dei 14 giorni da aspettare per il bridging da arbitrum a ethereum sapete che c'è quel discorso lì per i checkpoint la sicurezza eccetera eccetera con gli zk e arbitrum come optimism sono gli optimistic roll ups qua stiamo parlando degli zk roll ups che è una tecnologia diversa e più secondo molti più ottimizzata non vado nel tecnico perché non sono in grado ma molti dicono così starknet è costruito da star quer che sono quelli di mutable x che è una un layer 2 di ethereum sempre con zk roll ups ma specifico per gli nfc quindi non ci puoi costruire su da in sostanza ci sono alcune da come se non erro perpetuo al protocol dovrebbe essere costruito su star quer ma sono fatte ad hoc ok per la singola dap questa invece è quella che viene definita general purpose ovvero un layer 2 zk roll ups utilizzabile dalle varie dap esistenti su ethereum e è una bomba perché scala ethereum senza particolari sforzi non esci da ethereum non devi wrappare o fare chissà che cosa ci sono i bridge chiaramente per fare il salto layer 1 layer 2 ma sei sempre con la sicurezza di ethereum e la decentralizzazione di ethereum alla base questo è ciò che ci interessa cioè non usciamo dalla chain ethereum e abbiamo le performance di una chain che scala al momento siamo in fase alfa è stata lanciata sulla mainnet la fase alfa fase alfa che noi non possiamo usare è dedicata agli sviluppatori di dap quindi loro adesso andranno a smanettarci un po a provare a vedere se riescono a deployare le loro dap anche lì se funzionano bene fanno un po di stress test una cosa e l'altra poi andremo in beta e poi andremo live e saremo tutti contenti di avere un altro layer 2 su ethereum bullish su ethereum questa cosa ma insomma non ve lo devo nascondere il fatto che sono bullish su ethereum ma non so se avete visto anche la price action di ethereum che mentre adesso pump in diretta qua in realtà dump tutto ma scherzi a parte la price action di ethereum ultimamente non è affatto male potrebbe aver rotto cioè ci sta provando in realtà rompere questo mamma mia qua rompere questo range sarebbe polle sarebbe completamente polle mamma mia che roba sono quasi tentato di di provare allongare il test vabbè ne parliamo più tardi in ogni caso bullish per ethereum questo anche starknet perché lo fa scalare e di fatto la base fee è sempre in ethereum da pagare quindi col burn con tutti quei discorsi lì non ha il loro token abbiamo parlato ieri degli airdrop starknet come arbitrum optimism chissà che in futuro non faccia il loro token per chi interagisce in qualche modo con il layer 2 in questione vedremo chi vivrà vedrà adesso vi droppo il secondo codice opla eccolo droppato ora e nel frattempo non l'ho copiato molto bene e nel frattempo inizio a leggere eccoci le vostre domandozze vediamo vediamo cosa avete di bello da dire allora ma avranno ancora senso i layer 2 quando ci sarà ethereum 2.0 dunque ti dirò i layer 2 ci saranno sicuramente perché si combineranno magari anche anzi non magari si combineranno con ethereum 2.0 e penso che aiuteranno anche ethereum 2.0 a scalare perché comunque gli toglieranno del peso no ci sarà da vedere sarà il mercato a decidere se le main chain oppure se staranno comunque su dei layer 2 dipende da quanto diventano agili questi layer 2 perché se un layer 2 diventa talmente agile che basta una mini transazione tac ci vai su e non hai sbattimenti di appunto aspettare 14 giorni dover fare certe cose per riavere i fondi sulla main chain allora non c'è ragione per cui debbano estinguersi ma se le cose poi sono complicate c'è meno sicurezza e è più macchinoso che utilizzare direttamente la main chain allora si estingueranno io la vedo un po così come vedi cro ora c'è un possibile entry allora andiamolo a vedere andiamolo a vedere andiamolo a vedere però allora è ancora abbastanza esteso e abbiamo una punta molto forte qua è tac di questo tipo quindi io farei ancora molta attenzione è vero che stiamo un attimino consolidando quindi meglio della fase parabolica però parlare già di entry mi sembra molto prematuro molto molto prematuro sulle quattro ore abbiamo un andamento di questo tipo non lo so non mi fa impazzire io sinceramente aspetterei ancora un attimino perché se è vero che ha dato una spinta folle clamorosamente bullish però c'è stata questa punta con engulfing bearish con un attimino di stasi che non mi convince ancora al 100 per cento per me è ancora da aspettare un po poi chiaro se uno è un trader speculatore di breve può andare a cercare tranquillamente il setup anche su time frame intraday non lo so ma non è non è la cosa che piace fare a me ecco io cerco di osservare di solito il daily anche per per i trade speculativi poi mi dai uno sguardo ad a ma certo che si andiamolo a vedere allora ad a in preda alla forza di gravità niente sanguinamento lento non non si muove più di tanto struttura ribassista continua a fare lower high slower lows addirittura qua guardate questo trend ribassista che bam non fa neanche rimbalza sta scendendo in maniera costante ha trovato un minimo di supporto qua che era un supporto abbastanza forte vedete storicamente ma non ha neanche fatto un rimbalzo ci ha fatto questo tac tac debolissimo neanche un higher high proprio nessun segno di ripresa e poi l'ha perso come se niente fosse con volumi nulli cioè è una price action morta in questo momento quindi per me è assolutamente no e basta conosci la piattaforma lead quanto è sicuro affidarsi a questo tipo di piattaforma si la conosco e la uso personalmente mi piace molto a dir la verità e per quale motivo perché da delle sicurezze delle trasparenze che sono sopra la media mio parere led blog fai cripto.com sono tutte top level secondo me celsius nexo quelle lì sono comunque buone ma la trasparenza che danno blog fai soprattutto cripto.com e led secondo me è difficile da trovare altrove led in particolare fa anche degli odite esterni sui depositi si può andare a vedere insomma in qualsiasi momento il tuo deposito dovetti genera degli hash mi piace mi piace mi trovo mi trovo molto bene in verità ed anche dei dei tassi assolutamente dignitosi mi pare sia nove e mezzo sulle stable e 6 su bitcoin porco cane mi dimentico sempre me lo devo segnare da qualche parte mannaggia me nove e mezzo sulle stable no save era questo era questo vedete proof of resource erano quelle lì che vi dicevo nove e mezzo sulle stable e 6 e 25 su bitcoin con però degli scaglioni e attenzione perché su bitcoin fino a andiamo a vedere i dettagli ah no fino a un bitcoin fino a un bitcoin dal 6 e 25 niente male niente ma era blog fai mi pare che ha uno scaglione un po più ristretto e poi 2 25 quindi va bene non non è più tanto conveniente conviene piuttosto splittarli qua un po su blog fai un po su cripto.com per rimanere nel primo scaglione usdc invece nove e mezzo pam così facile e ci sono delle fidi prelievo qualcuno le chiedeva l'ultima volta di 0.00 no no questi sono i prelievi minimi insomma qualche dollaro di fidi per prelievo bitcoin e 10 usdc per il prelievo di usdc questo è il queste sono le fee e basta tra l'altro c'era c'è un bonus mi pare che ci sia ancora perché dura per tutto dicembre per chi deposita almeno e non me lo ricordo più ragazzi non me lo ricordo più però l'avevo scritto su telegram che su led c'è un boll adesso ve lo vado a cercare eccolo 5 allora 50 usdc di bonus per i nuovi utenti che depositano almeno 75 usdc o 0.00 15 btc e li holdano per 15 giorni ma ci dovrebbe essere anche qua da qualche parte mannaggia l'avevo letta ledn december promo giuro che adesso la troviamo vediamo ci sono solo cose polli niente però c'era c'era no ma aspettate perché ma ma cercato led invece voglio ledn ecco vediamo se c'è get you eccolo qua è questo secondo me vediamo se mi linka anche alla pagina ufficiale di ledn e figurati qua ha fatto solo la sua scillata beh ve la ve la troverò ve la troverò fidatevi fidatemi di me dai fidatevi di me vi lascio il mio dai di referral link però facciamo così non non vorrete mica usare di quello del tizio di reddit bam e procediamo procediamo con le domande allora ma la rendita in btc è pagata in btc yes assolutamente assolutamente sì puoi parlare di roam allora roam ieri ha lanciato saturando totalmente moon river e beh i primi rebase sono stati folli folli pollissimi adesso il prezzo di roam si ha un attimino contratto era arrivato a un picco di 4.000 5.000 dollari ieri durante il lancio ma perché poi ha scontato un po il fatto che i primi rebase quelli dal lancio in poi non so se qualcuno di voi è riuscito a mettere in stake subito al primo rebase ma pagavano uno sproposito i primi tre rebase praticamente facevi già per due era una cosa completamente folle poi è arrivato un attimino a saturazione adesso ci sono i bond in fase di stabilizzazione e funziona un po come wonderland no quindi roam chiaramente è sceso di prezzo perché si è stabilizzato anche in base ai take profit ci sono 8 milioni di dollari già nella nella riserva e il lancio secondo me è stato tutto sommato ben fatto e su twitter avevo visto prima che avevano in programma adesso entro non molto adesso ve lo trovo è entro non molto eccolo qua c'era un ultimo un tweet abbastanza recente eccolo ok quindi stabilizzare un attimi bond per massimizzare la crescita fare la prima mappa ecco geom non so se avete visto su olympus dao c'è un nuovo una nuova feature chiamiamola che hanno chiamato proteus che in sostanza è lo scopo è avere una governance cross chain con i geom che sono questi nuovi home che tu puoi andare a mettere in stake gli home fare un bond si chiama bondare home ottenere i geom che è come metterli in staking però con la governance cross chain no perché vogliono portare la liquidità anche al di fuori della loro chain di origine e rondao punta vorrebbe essere uno dei principali detentori di geom per partecipare a stretto giro alla governance appunto di olympus dao stanno lavorando bene insieme secondo me gli stable bond poi vogliono mettere quindi con stable coin con degli lp anche di stable coin le analytics che vabbè mi sembra un po il minimo e basta niente io il mio cipino c'è dentro non l'ho toccato lo lascio in staking non non faccio buy high sell low anche se in questi giorni si poteva fare era anche divertente ma non ho tempo né voglia sinceramente lo lascio lì per un po e mi godi primi rebase ricordatevi che questo fa parte di operatività gambling alto rischio non non prendetela come una cosa sicura e niente del genere ve l'ho specificato dal giorno 1 quindi fatti bravi cipino sì ma all in e pin assolutamente no perché questi non sono conigli finanziari anzi sono conigli finanziari non sono consigli finanziari e quindi c'è il discorso rischio rendimento favorevole quello che abbiamo detto l'altra volta ma con la dovuta cautela e contenimento del rischio poi 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 cosa abbiamo di bello ma il tuo famoso short di copertura l'hai chiuso in perdita ragazzi ancora aperto lo short di copertura intoccabile intoccabile voglio vedere un bel pump prima di chiudere lo short di copertura no voglio vedere la come dire una rottura effettiva della struttura cioè non solo una toccatina e fuga ma perché ha uno short talmente piccolo cioè come sempre va contestualizzato è minuscolo al 5 per cento della mia posizione e non è uno short speculativo quindi da dire lo chiudo e ho realizzato è come se avessi fatto un take profit parziale al prezzo medio di apertura di quello short e anziché fare la vendita il take profit io ho aperto il mio short con collaterali i miei bitcoin questo è un po' il discorso no e quindi questo è nel senso non ho intenzione di chiuderlo di corsa perché è speculativo me lo tengo aperto e quando lo chiudo sarebbe come dire sono rientrato in bitcoin vedetela un po' più in questo modo poi allora allora cosa abbiamo cosa ne pensi delle ai dio ma guarda ai dio ai fo tutte quelle robe lì alto rischio alto rischio c'è poco da fare se si riesce a partecipare probabilmente pagano bene finché sia in bull market però entrare dopo il listing come al solito è di solito abbastanza polle e quindi massima attenzione insomma sono quelle robe super speculative l'equivalente delle icio del 2017 niente più niente meno ci spieghi cos'è un rebase grazie sì allora un rebase è un evento che va a generare delle monete come succede ad esempio con home con time con roma anche e in base a ad alcuni parametri specifici per esempio con time quindi anche con le altre equivalenti vengono generate agli staker di time che hanno memo come sapete gli staker di rom hanno s rom e gli staker di home hanno non mi ricordo come si chiama s home probabilmente e quando qualcuno va ad acquistare i bond all'interno delle piattaforme va a generare dei nuovi time io adesso parlo di wonderland vai a generare nuovi time e la supply di memo deve incrementare in rapporto 1 a 1 con la supply di time quindi cresce la supply di memo in sostanza e quell'evento lì di generazione di nuovi memo viene chiamato rebase e avviene ogni 8 ore quanto vale un s home? sì ok grazie mi sembrava che fosse sempre la s di staked ma adesso poi c'è anche g home quanto vale un cipino? me lo chiedo da settimane allora il mio cipino su wonderland ve l'avevo detto era lo 0.5 per cento del mio portafoglio quindi la parte gambling in sostanza un cipino è una la classica somma che puoi permetterti di buttare senza nessun tipo di pensiero quindi tu lo perdi dici vabbè non mi importa nulla non mi cambia nulla ma non che mi cambia ma poco cioè che però mi dà fastidio no quello non è già più un cipino quello è già troppo il cipino da gambling è proprio quella somma come quando vai al tabacchino dici 5 euro di gratta e vinci su 5 euro chi se ne frega poco male pacchetto di sigaretti in meno non ti cambia nulla questo è il concetto di cipino farai mai un video su cadena? ragazzi io me l'ero preparato guardate avevo qua sul mio taccuino taccuino di super mario avevo una pagina su cadena da qualche parte dove eccola qua cadena questo era il mio studio su cadena tac e qua a destra cos'era defy 2.0 vabbè era uno studio privato sulla defy 2.0 ma non m'ha convinto ho detto non voglio ancora portarla perché non m'ha convinto del tutto e mi è sembrata troppo ipata troppo sopravvalutata allora ho detto magari un'altra volta appena collegato con quello schifo di grafico dietro hai ragione cambiamo subito mettiamo il nostro bitcoin mettiamo subito il nostro bitcoin tra l'altro per la rubrica top signal non so se avete visto le nuove perle che ho condiviso su su twitter questi che dei messaggi che ho letto oggi ma ogni tanto vado a vedere per per divertirmi noi commenti sotto alcuni video e trovi cose assurde tipo non ho capito nulla ma 30 dollari ce li ho messi così nel dubbio buttiamo buttiamo un po di soli questo è il concetto di cipino no però magari se si capisce quello che si sta facendo si ha più probabilità di guadagnare qualcosa da quel cipino e poi quest'altro bellissimo se mi stai guardando non ti voglio prendere in giro è solo per per ridere chiaramente io sono da un bel po nel vostro gruppo ma non ho ancora capito come investire in cristo lo so che gli è scappata la s al posto della p non è niente per cui colpevolizzarlo però fa solo s è divertente dai e qualcuno ha commentato poi i vostri commenti mi fanno veramente piegare in due 10 pattern nostro e quattro ave maria fantastico fantastico vabbè basta torniamo seri torniamo seri allora dunque 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 pensi che mu river abbia potenziale si assolutamente sì come parace in ottima assolutamente cosa ne pensi di one a lungo termine altra chain comunque che al suo perché adesso tutti i layer 1 e layer 2 stanno crescendo c'è un trend crescente a me piace molto guardare il tvl sui vari sulle varie chain per capire quella che di fatto quelle che di fatto hanno un trend crescente chiaramente ethereum è un evergreen ha sempre un trend crescente ed è il non plus ultra delle dap e della defi poi vedete la biana smart chain ad esempio adesso è un attimino statica però con un tvl comunque molto alto ha avuto il suo picco nel periodo di massima fomo no di su pancake swap solana invece ha avuto un attimino di freno anche lei però comunque è sempre in crescita avalanche è cresciuta molto ultimamente guardate che roba avalanche pazzesca quindi non a caso il suo prezzo è salito in maniera parabolica terra sono sempre bullish su terra vedete trend crescente linearmente costante un grafico bello organico tron ma tron me la sono completamente persa non non conosco però sembra in crescita anche tron phantom ha avuto un picco e poi si è stabilizzata andamento molto strano quello di phantom polygon è un attimino caduta in disuso con l'ascesa degli altri layer 2 vedete che non è proprio dei più belli il suo il suo trend arbitrum crescente ma non ha tutto questo tutta questa liquidità non so per quale motivo forse perché le fissono ancora un attimino altine anche su arbitrum elrond boom con il lancio di mayer c'è solo mayer e ha 2 billion di liquidità quindi direi niente male waves è un ecosistema che vale la pena secondo me approfondire non l'ho mai fatto ma mea culpa lo farò credo ronin è quello di ax infiniti volevo andare a vedere cronos che vedete anche lei è crescente in maniera abbastanza costante guardate che numeri però per adesso c'è solo vvs in pratica sono curioso no il veramente il botto lo farà quando uscirà tectonic secondo me il la cronos c'è in tanta roba tectonic poi dunque moon river che qualcuno chiedeva guardiamo un po come sta andando vedete moon river niente male e non è ancora non hanno ancora listato qua sopra rom dao tra l'altro comunque vedete che è crescente anche il tvl su moon river parliamo di ordini di grandezza diversi perché sono comunque dei layer meno utilizzati harmony eccolo qua vedete harmony è in crescita invece c'è the five kingdoms che spinge spinge abbastanza e poi ci sono le principali the five su su harmony e c'è curve però non vengono ancora utilizzate così tanto guardate curve su harmony ha soltanto 16 milioni di tvl nonostante mi ricordo che c'erano comunque dei pool interessanti andiamo a fare un attimo un controllino ma perché va molto di cioè si va a mode no con con le varie chain quando dunque aspettate harmony quando va di moda una chain e inizia a concentrarsi la liquidità lì di solito fa veramente un effetto aggregatore cioè ci sono c'è la tri cripto col 43 per cento di apy che non è affatto male il tripul vabbè non fa sicuramente impazzire però questo tri cripto forse è uno dei migliori addirittura dei tri cripto è pagati in one tra l'altro vabbè comunque niente questa piccola disamina sulla de fai per capire quali andavano di più definizione di tvl sta per total value lot ovvero il la liquidità complessivamente vincolata e sbagliato la liquidità depositata su una specifica chain se tu hai 10 mila dollari usdc su ethereum e li sposti con un bridge su harmony tu aggiungerai 10 mila tv di tvl su harmony e lo toglierai da ethereum per capirci dunque cosa ne pensi di terra land terra land la dovrei approfondire perché non mi ha mai fatto impazzire era quella su real estate no terra land non mi facevi impazzire più di tanto sia questa sì non io dicevo io non lo userei usare gli ust per andare delle sorte di rate di non lo so investimenti immobiliari su non so con quale intermediario c'è molto non lo so non mi convince granché ecco quindi non non l'ho mai approfondita per questo ecco non preferisco non dire nulla di un qualcosa che non approfondisco ma non mi ispira cioè non voglio dire fa schifo perché non lo so ma non mi ispira neanche ad approfondirlo cosa ne pensi del ritracciamento dei vari metaversi sono già finiti o stanno respirando i metaversi sono in bolla questa è una situazione di bolla si parla solo di metaversi quindi questo cosa comporta comporta due cose uno che hanno avuto delle price action folli assolutamente gonfiate paraboliche quindi ritracceranno dal primo all'ultimo possiamo andare a vedere sand ad esempio sand btc vediamo vabbè non sta neanche ritracciando però è parabolico quindi ritraccerà fate attenzione e non fatevi male costi metaversi che adesso sembra che bisogna comprare adesso i metaversi ma è come al solito quando parlano tutti di una cosa è il momento in cui bisogna starci alla larga di solito ok se si vuole un rendimento decente sul lungo termine anzi i metaversi sono qua per restare su questo non abbiamo dubbio ok però il problema è che adesso i prezzi sono gonfiati quindi esporsi a un prezzo come quello attuale è un rischio che in futuro avremo o meno profitto addirittura una perdita nonostante i metaversi rimarranno ok the sandbox rimarrà è uno dei top metaversi però ha fatto quanto ha fatto mille per cento cioè come si fa ad acquistare un token una coin dopo che ha fatto più mille per cento qualcuno me lo spieghi mi spieghi una ragione valida anche chi ci guarda dopo nei commenti ditemi una ragione valida per acquistare send adesso dopo un mille per cento in meno di un mese io non la trovo anche se sono bullish all'infinito su the sandbox ok non non ha semplicemente senso i metaversi sono in bolla se ne parla tanto troppo sta nascendo progetti feccia fuffa veramente senza né capo né coda ormai tutti i progetti nascenti play to earn crypto gaming blockchain gaming game fai tutte ste parole buttateli a caso per fare per mille con i loro launchpad così chi li promuove spinge magari il vc che li spingono all'inizio fanno che dampano in testa chi compra dopo e fanno mille per e poi i progetti muoiono lì perché come sempre quando c'è tutta questa bolla no tutto questo fumo intorno a un topic va a finire che dopo un po' si riparte da zero cioè c'è una fase di ritracciamento ed è proprio lì chi non ci ha riuscito prima perché chi era avanti è da un po' che parliamo no del gaming noi ad esempio e non so da quanto il gaming il play to earn abbiamo sempre detto potete andare a vedere i video di mesi fa ma anche 6 7 mesi fa l'abbiamo sempre detto che sarebbe stato un trend e quindi uno poteva mettersi avanti e accumulare allora oppure adesso il momento peggiore aspettare la fase di ritracciamento la fase di meno euforia quando ne parla meno gente o non ne parla più nessuno se mai succederà e accumulare lì cioè lì c'è da accumulare non quando ne parlano tutti ed è in pomo che il fioraio sotto casa quando vai lì ti dice oh ma che metaversi hai comprato no non funziona così ora tutti i bananari parlano di metaversi è il momento in cui c'è da starci alla larga non fare ip fine dello sfogo acqua ghiacciata bene altrimenti altrimenti c'è sempre il buon vecchio piano d'accumulo è nel senso nessuno ci nessuno ci dieta di sbattercene del prezzo e fare un bel piano d'accumulo cosa pensi di axs per lo stake non è male non è male perché lo staking al momento vediamo quanto frutta non frutta poco è 113 per cento di apr ma soprattutto se c'è qualche pazzo disposto a rimanere su layer 1 abbiamo visto prima che su popsicle c'è ancora di meglio aspettate che torno su eth ci sono già molto bene guardate che roba è preparatevi tenetevi forte voi lo sapete già se siete collegati dall'inizio lo sapete già bababam axs eth 5458 per cento di apr quindi volendo per i più di gen tra l'altro axs eth come messo in permanent loss secondo me neanche malissimo dai che top no assolutamente fantastico non è neanche un pair da troppo in permanent loss con un apr del genere poi è normale non male non male nel frattempo noi abbiamo detto pump in diretta io potevo cucirmi la bocca facevo prima perché adesso abbiamo una candela atroce una daily atroce bene benissimo allora torniamo da voi droppiamo un codice dai così mi faccio perdonare il penultimo il terzo eccoci eccoci qua mettiamolo qua sotto non me l'ha preso ce la possiamo fare eccoci qua così non ci sono davanti io bene poi star atlas è un progetto fuffa no fuffa no ragazzi fuffa assolutamente no star atlas è un progettone il problema è l'hype il problema è l'hype c'è un hype esagerato esagerato questo è il punto io scome lo vedi personalmente mi sembra un progetto morto eos è un progetto un po lasciato completamente a se stesso a se stesso domani parla la sec è vero domani è il 2 parla la sec porca miseria mi ero scordato mi ero scordato chissà cosa dirà chissà cosa dirà ci aggiorneremo ci aggiorneremo assolutamente a che servono i codici non capisco su prime xbt l'ho detto all'inizio della live sono dei promo code da 0.003 bitcoin per prime xbt trading bonus troppo hype aspetti big dell'industria che vengono su metaverse poi se ne riparla quando c'è meno hype se ne riparla davvero questo è un po il discorso bananari is the new casalinga di voghera esatto solo che la casalinga di voghera se lo teneva per sé i bananari sono fanni guru adesso tutti metaversi ovunque ma sì vabbè vabbè cosa ne pensi di vvs finance tanta roba per farmare tanta tanta roba date anche un'occhiata a bifi se siete dei farmer perché su bifi appoggiato proprio a vvs ci sono delle c'è un auto compounder quindi non dovete ogni volta dampare vvs per riaggiungere liquidità eccetera 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 volevo vederla su cronos in particolare mi piaceva assai proprio per impermanent loss molto contenuta ve la trovo è tac ci siamo ci siamo cronos allora papapapà vedete abbiamo crono swap e vvs qua con i py golosi ma in particolare dove sei eccolo cro btc cro btc per chi è long su cro e su btc chiaramente perché si è esposti entrambi abbiamo uno 0 e 75 per cento al giorno e cioè su cro btc che non sono shitcoin e c'è sotto vvs che è una piattaforma safe ci si espone usando anche i compounder a rischio composto quindi sia di vvs che di bifi però bifi è una piattaforma longeva insomma a me non dispiace affatto come compounder vvs è una delle top su cronos quindi e io non holderei vvs ecco per quello io utilizzerei un compounder questo è un po il discorso allora torniamo 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 dunque visto ciò che hai detto sulle cripto del metaverso come imposteresti un piano d'accumulo ma guarda sono le classiche strategie cioè o gli acquisti mensili o gli acquisti mensili con comportamento diverso durante gli uptrend o i downtrend avevo fatto un video apposta dove spiegavo diverse strategie di pack e dipende poi da ognuno che quale vuole adottare perché non è che c'è da avere un approccio diverso c'è solo da capire che adesso siamo in una fase di massima hype quindi da qui a non lo so sei mesi un anno è più probabile un prezzo minore che un prezzo maggiore ma è mera probabilità ok e poi è un mio punto di vista chiaramente però le su auto farm gli ipy sono leggermente più alti ma mi fido meno di auto farm sinceramente sai perché non holderesti vvs perché è troppo diluita in questa fase cioè troppo dampabile non mi piace l'idea e comunque no dicevo per per terminare che siamo molto in hype ma se uno ha una visione di lungo punta a filtrare l'hype quindi ripeto facendo un po' di media si filtra l'importante è non cercare di fare compro in alto vendo ancora più in alto o robe del genere perché lì si chiama trading ed è una cosa da fare professionalmente con i setup con la strategia e quant'altro poi solita candela daily di bitcoin quando arriva 59 k compare l'offerta vero vero perché è altrettanto vero che qua c'è una bella zona di offerta massiccia vedete che ci sta sopprimendo tra l'altro in in trend così offerta molto massiccia qua su queste ultime tre candele daily se abbiamo domanda che sostiene qua sotto anche l'offerta non è da meno siamo belli compressi l'ideale sarebbe gravitare di nuovo qua mi farebbe sentire molto meglio attiviamo un attimo il volume profile perché vedete stiamo generando volumi anche qui nel frattempo se noi andiamo a prendere tutta tutta quest'ultima fase cioè questa area attuale sta diventando sta per diventare il point of control quindi la zona con più volumi mossi prima era qua sopra e la potremmo spostare qui se questo sarebbe uno scenario brutto cioè se lateralizziamo ancora facciamo altri volumi e poi scendiamo di nuovo sarebbe un po tendente alla distribuzione come 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 impostazione generale non non benissimo devo dire non benissimo ultimo codice ultimo codice o la pronti tutto vostro quadruplo codice oggi ragazzi incredibile incredibile cose incredibili accadono allora come gestire un take profit con uno short su future meglio future o short su spot ma per lo short di copertura dici io preferisco i future tendenzialmente a scadenza per perché sono sono un po sovrapprezzati e quindi vai anche a grattare via quel quel premium nel col passare del tempo e poi non hai non hai da pagare le fee lo short su spot paghi le fee di prestito poi dunque avevo visto di sfuggita un messaggio su un asu ok andiamo a vedere su spectrum con un APY folle su biluna vediamo 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 cosa mamma mia quanto si è gonfiato il tvl su spectrum allora vediamo è nell'una psi wow è nell'una psi 419 per cento niente male di APY però psi non è che sta avendo una bellissima price action eh mentre qui abbiamo i farm di mirror sulle stocks che non sono un grandissimo fan però no niente era questo si perché avevo letto così avevo dato un'occhiata qualcuno parlava di un farm n luna su spectrum e volevo approfondire un attimo allora allora cipino a fortune dao che cos'è fortune dao che cos'è che cos'è un altro un altro fork basta non ne posso più di questi fork non ne posso più allora perché dai a un APY del 4.7 su Binance essendo una stablecoin probabilmente la mette in prestito Binance penso proprio di sì cosa ne pensi di BitDAO ma guarda non mi dispiace affatto perché soprattutto permette di partecipare ai launchpad di Bybit adesso non so quanto vale esattamente BitDAO vediamo però sai che sul lungo termine sono abbastanza bullish ti dirò cioè mi sembra un po' l'equivalente di BNB adesso di Bybit poi Bybit ha dei legami interessanti con Alameda con FTX vedo che tutti i nuovi launchpad vengono listati anche su FTX adesso sta ritracciando ma non è male ti dico la verità lato fondamentale non è male la trovo cioè secondo me trovano il modo di pomparla ecco insomma esattamente come è accaduto con con le altre exchange coin quanto durerà il video di domani bravo mi stavo per dimenticare mi stavo per dimenticare domani domani segnatevi la data segnatevelo assolutamente perché arriva la prima puntata del nostro corso di DeFi corso di DeFi per principianti che servirà per non dover più tradurre le mie live dall'arabo all'italiano eccolo puntata 1 parliamo di un'introduzione alla DeFi con le slide vi manterrò il link gratuito di download alle slide in pdf e quindi questo è un inizio un po' come trading consapevole faremo un percorso in puntate dove andiamo a esplorare la DeFi partendo dalla teoria dal generico arrivando fino alla pratica quindi partiamo dal che cos'è come funziona da dove arrivano i profitti quali sono i rischi quanto costa utilizzarla bla 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 e poi andiamo Betamask alla mano a fare le nostre prime transazioni fare il token LP lo staking borrowing lending bla 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 e alla fine spero si avrà un quadro completo della situazione in modo da mettervi alla pari insomma con col gergo della DeFi col come si usa la DeFi eccetera 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 si parte domani episodio 1 ogni giovedì poi alle ore 19 avremo l'episodio successivo qui su youtube in maniera totalmente gratuita e io vi consiglio di iscrivervi al canale qua su youtube di non solo guardare i video senza essere iscritti perché poi non vi arriva la notifica attivate anche le notifiche tutte le notifiche perché non ve lo dico ma potrebbe servirvi in futuro così bene dunque io a sto giro direi madonna quanto ho parlato 1 ora e 05 io vi volevo salutare ma dobbiamo vedere due grafici perché altrimenti non non facciamo insomma cambiamo la struttura della live che non si fa perché poi mi dite dove sono i grafici bitcoin l'abbiamo già visto purtroppo pump in diretta una cippa perché la candela è chiusa nella maniera peggiore possibile quindi io non lo dirò mai più pump in diretta porta una sfiga incredibile e candela orribile perché se chiudiamo in questo modo c'è prevalenza palese dell'offerta offerta che ci schiaccia andiamo di nuovo ad attaccare il nostro supporto se lo perdiamo abbiamo l'ultimo supporto a 53.000 poi andiamo a fare nuovi lower low e si procede sul macro rimane sempre valido il setup di accumulazione con invalidazione sul lower low più macro se facciamo un lower low di quella portata allora inizio ad aver paura perché cambia completamente la struttura cambia la struttura vedete abbiamo fatto un tentato higher high perso cioè assorbito totalmente da questa candeloza è stato orribile con lateralità qua dentro per qualche settimana prosecuzione ribassista e lower low vorrebbe veramente dire andare a invertire la struttura e quindi le probabilità di un'immediata continuazione rialzista direi che diminuirebbero parecchio vediamo vediamo un po che succede e che dice il nostro plan b me lo dovrete dire voi perché io non lo so ethereum andiamo a dare un occhio ethereum che è bullish ethereum è bullish ha preso i massimi ci ha fatto higher high qua sopra in bitcoin e al momento deve vedere dove chiudere la candela settimanale allora se chiudiamo la candela settimanale qua sopra io potrei fintentare un long sul retest di questa zona perché ripeto andare a rompere a rialzo un range come questo cioè è veramente significativa come mossa occhi puntati su ethereum perché potrebbe dare tante tante soddisfazioni sul daily teoricamente qualcuno potrebbe dire che ha già fatto breakout e si potrebbe già cercare il retest a vostro rischio pericolo è una mossa molto speculativa non abbiamo conferme abbiamo solo una candela di breakout neanche troppo convinta perché abbiamo rotto di poco e non abbiamo rotto quassù questo top quindi è un po' rischi come mossa vedete vedete voi ragionateci rischio alto chiaramente reward alto se va bene per il resto abbiamo luna che ripeto ha spinto come un drago ha fatto un breakout e un retest di questa zona la zona delle shadow dopo dopo il breakout e al momento la price action è molto bullish perché anche lei ha fatto un bel range che non è paragonabile con quello di ethereum però vedete è bello rotto a rialzo quindi insomma non male si potrebbe andare a cercare sempre con chiusura in caso di chiusura weekly un eventuale retest qua giù per costruire una posizione e per il resto cos'altro abbiamo di interessante alla total ne parlavamo oggi la total ha trovato supporto vedete qua giù sul daily forse si vede meglio ha trovato supporto qua giù al momento è costretta in questo range così e che dire bisogna un po' vedere se ha intenzione di recuperare di andare di nuovo a rompere le scatole ai massimi o di perdere questo supporto allora se perde il supporto passiamo a una fase di ritracciamento un po' più marcato se invece torniamo a rompere le scatole ai massimi beh niente male perché di fatto ci passiamo passiamo a una fase di lateralità se non facciamo nuovi massimi in un macro molto bullish che non ci può dispiacere quello è poco ma sicuro bene ragazzi vi ho asciugato completamente sol giusto andiamo a vedere sol sol btc pure sol spinge eh ma sol c'è poco da fare non conosce bear market no scherzi a parte la price action non è male abbiamo un range di questo tipo siamo al suo interno c'è da vedere come reagiamo con i massimi adesso abbiamo trovato supporto in questa zona come reagiamo con i massimi se li buchiamo subito oppure se di nuovo assorbiamo è una siamo vicini a una resistenza importante quindi adesso non è tanto un punto da long però è da sicuramente tenere d'occhio amici stavolta ho terminato bene io vi farei un saluto tanto che fare con m sol senza usare parrot e ci sono tutti i pool m sol sol eccetera eccetera ci sono si possono usare in defa nella defa o in landing su sulle varie piattaforme di landing su solano oppure in defa nelle varie defa bene amici io vi ringrazio di avermi seguito vi auguro una buona serata mi raccomando domani sul pezzo con il nostro corso di defa guai a chi manca è a gratis e poi noi ci rivediamo in live dopo domani così mi darete le vostre prime opinioni amici di nuovo buona serata a tutti quanti e alla prossima